La storia è iniziata un anno fa, quando il ragazzo ha reso pubblici su un noto network i suoi racconti pornografici su due compagni di scuola, probabilmente per gelosia nei confronti di uno dei due. Una storia completamente inventata, ma con nomi e cognomi veri ed esistenti. È questo lo scenario che ad oggi vede indagato un giovane ragazzo di appena 15 anni. Una storia che è diventata un vero e proprio passaparola, arrivata anche all'estero, dove nel frattempo si era trasferita una delle protagoniste principali. Una sedicenne che, nella storia inventata, si contende un ragazzo proprio con l'autore del libro, che ne è quindi anche uno degli interpreti. La ragazza è stata costretta a tornare in Italia dall'estero per venire a depositare la denuncia, presentata nei giorni scorsi, per bloccare tramite il suo difensore, Nicola Ottaviani, la pubblicazione e l'ulteriore diffusione di questi scritti, che trattano di storie di lei ed altri coetanei molto spinte. L'avvocato Ottaviani ha presentato una dettagliata denuncia alla polizia postale, chiedendo il sequestro immediato dei due libri, con il blocco immediato della diffusione sul web, provvedimenti che il Tribunale per i minori prenderà nelle prossime ore.